Milano Pavia News, edizione Pavia di mercoledì 9 ottobre, buonasera e ben ritrovati. Andiamo subito a vedere le notizie principali della giornata nel nostro sommario. Col bolo notturno a Mortara, dove una banda di ladri ha sradicato con un fulgone il bancomat della Popolare di Novara e il bottino non è ancora stato quantificato, ma i danni alla filiale sono ingenti. Truffatori ancora in azione a Voghera nei giorni scorsi sono arrivate diverse segnalazioni di falsi tecnici di ASM che giravano in città, l'azienda chiede di fare la massima attenzione. I carabinieri di Pavia hanno fatto scattare due denunce in seguito a una serie di controlli nelle case di riposo del Pavese, riscontrate irregolarità nelle normative e nelle autorizzazioni sanitarie. La ludopatia spiegata nelle scuole è partito in questi giorni. Il progetto dell'ufficio scolastico provinciale Cambia Gioco Punta Sudite, rivolto a studenti e professori. Domenica Pavia, la giornata di sensibilizzazione sul tumore al seno. L'associazione IAC e Universitiamo hanno organizzato un incontro e una sfilata di moda all'interno dell'Aula del 400. Queste dunque le notizie della giornata. La cronaca in apertura colpo nella notte a Mortara dove una banda letteralmente sradicato, il Bancomat di San Pio probabilmente con un furgone. Il bottino non è ancora stato quantificato ma i danni sono ingenti. Paolo Barri. Questo è tutto ciò che rimane del Bancomat di San Pio a Mortara. I gnoti attorno alle 4 di mattina hanno agganciato la struttura a un veicolo, probabilmente un furgoncino, per poi sradicarla e portarla via. Non è ancora stato calcolato quanti soldi ci fossero all'interno della macchinetta al momento del furto ma il bottino sarà probabilmente piuttosto ingente. Lo sportello automatico è della Banca Popolare di Novara. È collocato all'interno di un piccolo negozio che però non ha servizio al pubblico. C'era solo il Bancomat, l'unico posto di prelievo per il popolare quartiere mortarese che ora dovrà farne momentaneamente a meno. In mattinata è stata sostituita la vetrata. Quella che c'era fino a stanotte non ha posto grande resistenza ai ladri. Molte persone che abitano qui intorno non hanno nemmeno sentito il rumore, segno che i malviventi non dovrebbero aver fatto molta fatica a mettere a segno il colpo. Lo sportello Bancomat si trova al piano terra di un condominio. I due appartamenti sopra la vetrina in cui è avvenuto il furto sono vuoti. Non si sa se i ladri conoscessero questo particolare. Ci sono due appartamenti che sono vuoti. Se c'era quel... magari non si fidavano troppo, ma essendo vuoti gli altri sono spostati, gli appartamenti non hanno sentito niente. La zona è controllata da telecamere di videosorveglianza ma sembrerebbe che i malviventi le abbiano coperte prima di entrare in azione. Di notte quartiere è terra di nessuno, la banda agito indisturbata. Io non l'ho sentita per il semplice fatto perché abito un po' però chissà il tempo è che l'hanno studiata bene. Ma qui è un posto che durante la notte non c'è mai nessuno. No, non c'è mai nessuno, poi c'è anche questo che quando li prendono poi li lasciano uscire. E poco prima del colpo messo a segno Mortara un altro banco matera stato preso di mira però a Zinasco Vecchio nel Pavese. Qui i ladri sono entrati in azione attorno alle 3 del mattino, hanno cercato di far saltare lo sportello del postamat dell'ufficio postale del paese in via Villani. L'esplosione come potete vedere ha ovviamente svegliato i residenti che hanno subito chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il sindaco Massimo Nascimbene. A quanto risulta però i ladri sono fuggiti a mani vuote, anche in questo caso stanno indagando i carabinieri. Continuiamo con la cronaca. Truffatori di nuovo in azione a Voghera. Nei giorni scorsi sono arrivate diverse segnalazioni di persone che si spacciavano per tecnici di ASM. L'azienda ha diffuso una nota per cercare di mettere in guardia i cittadini. Armando Bidone. Ancora truffatori in azione a Voghera. Nei giorni scorsi infatti sono state diverse le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine per la presenza di falsi tecnici che si aggiravano per la città suonando campanelli e tentando di introdursi nelle abitazioni, in particolare delle persone anziane. In un paio di casi almeno i malintenzionati hanno provato a spacciarsi per tecnici di ASM. Secondo quanto si apprende avrebbero agito in due esibendo anche alcuni tesserini che però evidentemente erano completamente fasulli. Alla richiesta di qualificarsi in modo più approfondito. Infatti i due preferivano darsela a gambe elevate. La nostra azienda hanno spiegato da via Pozzoni. In una nota è completamente estranea a questi fatti e mette in guardia i propri clienti, soprattutto quelli anziani e indifesi e più in generale i cittadini di Voghera con alcuni consigli. A volte anche le precauzioni più banali infatti non vengono prese in considerazione dai cittadini. Per esempio quello di non lasciare entrare nessuno. L'azienda infatti non manda nessun operatore per fantomatiche verifiche nelle case delle famiglie se non avvisando preventivamente. Chi afferma di essere un nostro dipendente conclude ASM e cerca di ingannare il cittadino facendo leva sulla sua buona fede. Il consiglio è quello di avvertire subito le forze dell'ordine e di prestare la dovuta attenzione prima di aprire la porta di casa. Andiamo a Pavia adesso dove i carabinieri hanno fatto scattare una serie di controlli nelle case di riposo cittadine del circondario. In due residenze sono state riscontrate delle violazioni che hanno fatto scattare delle denunce. Sentiamo. Ancora anziani non autosufficienti inseriti in strutture per persone autonome. Il blitz dei NAS di Cremona con il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Pavia e la locale ATS è scattato nelle scorse ore. A finire nei guai sono state due residenze sanitarie assistenziali del circondario di Pavia che nel corso dei controlli sono risultate a vario titolo non in regola con la normativa. Più nel dettaglio in una delle case di riposo sottoposta verifica i carabinieri hanno trovato due anziani non più in grado di badare a se stessi ospitati nel padiglione cosiddetto alberghiero e cioè destinato alle persone autosufficienti. Come detto i controlli si sono estesi anche ad altre RSA della zona e in un altro caso i responsabili della struttura sono finiti nei guai con pesanti sanzioni e l'obbligo di mettersi in regola. Questa volta i problemi riguardavano anche le autorizzazioni sanitarie da ottenere per avviare l'attività. Oltre a ciò fatto forse ancora più grave anche in questo caso nella struttura c'erano ospiti che non avrebbero dovuto essere lì ma in altri contesti e con un'assistenza più adeguata. Tre di loro infatti risultavano non essere per nulla autosufficienti e uno in particolare era effetto da severe patologie psichiatriche. Parliamo d'altro ci spostiamo a Vigevano dove è stata presentata l'app che consente ai cittadini di inviare segnalazioni alla polizia locale. Nell'app sarà presente anche una mappa con la serie, con la posizione delle varie segnalazioni aperte. Sentiamo Paolo Barni. È stata attivata una app che permette di inviare direttamente segnalazioni alla polizia locale di Vigevano. Si chiama OneSafe e opera anche in diversi altri comuni. È scaricabile con qualunque smartphone. Per registrarsi basta inserire il proprio numero di telefono. Ogni segnalazione viene visualizzata su una mappa. Tutti possono vedere la segnalazione magari corredata di foto ma solo la polizia locale conosce il numero di telefono di chi l'ha creata in modo da poterlo ricontattare in caso di necessità. Parliamo qui di segnalazioni strettamente attenenti alla polizia locale come può essere un furto, un veicolo abbandonato, un abbandono rifiuti, però anche segnalazioni che magari non direttamente interessano la polizia locale ma che comunque transitano spesso per la polizia locale come un impianto di illuminazione non funzionante, una buca nella strada ed un albero caduto per strada. Altre segnalazioni di questo tipo. Sull'app trovate tutte le tipologie di segnalazioni attive. Noi abbiamo cercato di tenere il più ampio possibile le categorie disponibili per il cittadino. Ogni segnalazione viene presa in carico dalla centrale operativa della polizia locale che inserirà nel post dei messaggi per spiegare come la situazione è stata verificata e come si è intervenuto. La app è utilizzabile anche in senso inverso. La polizia locale può spedire notifiche agli utenti in occasioni particolari come la chiusura di strade o l'allerta meteo. Sono inoltre disponibili diverse altre funzionalità. Vorrei per esempio solo ricordarne una ma se scaricate l'applicazione da Google, da App Store potrete vederle voi stesse. Ve ne cito una molto interessante, quella che avrete già a disposizione una mappa di tutti i defibrillatori presenti in città, quindi lo vedrete proprio sulla mappa della città di Vigevano e in caso di necessità cliccando sull'icona già sapere dove si trova e anche attivare Google Maps per portarvi nel tragitto. Parliamo d'altro, andiamo a Travacosico, Mario nel Pavese dove la Comune quest'anno fatica a chiudere il bilancio per raggiungere il pareggio, l'amministrazione dovrà fare diversi sacrifici. Mario Fortunato. Chiudere il bilancio restando nei parametri imposti dalla legge, un'impresa ardua soprattutto per piccole realtà come Travacos, Comune che ha deciso di puntare sull'ambiente e non sugli insediamenti commerciali che creano indotti importanti. La scelta amministrativa di qualità che è quella di ragionare su una difesa del territorio e dell'ambiente dal punto di vista economico non è poi così tanto conveniente. Per noi non è facile riuscire a mantenere tutti i servizi che abbiamo e a rispondere alle esigenze dei cittadini con quelle infrastrutture che ci chiedono e che onestamente facciamo fatica a realizzare. Ma l'obiettivo del pareggio di bilancio sarà comunque garantito facendo sacrifici e riuscendo allo stesso tempo a garantire i servizi richiesti dalla cittadinanza. Riusciremo a chiuderlo perché comunque siamo un'amministrazione, un comune che ha imparato a risparmiare, che ha imparato a riciclare e che cerca in tutti i modi e devo dire su questo ringrazio tanto anche i cittadini che sono estremamente collaborativi da questo punto di vista, cerca in tutti i modi di reagire e collaborare senza andare oltre. Le spese che sicuramente sono necessarie perché dobbiamo mantenere i servizi e questi sono indispensabili anche e soprattutto in un momento in cui abbiamo visto, ma non solo noi, cioè in tutti i comuni, c'è molta richiesta, molta più richiesta rispetto a prima. Quel che è certo è che a fronte di queste difficoltà a Travaco non si vedranno nuovi insediamenti commerciali. No, sicuramente no, un po' perché proprio non sono diciamo conformi al nostro stile di vita e un po' anche perché geograficamente noi siamo collocati in una zona che non è di passaggio e quindi non è neanche di grande interesse per il commerciale. Puntiamo un po' di più sui negozi di vicinato, su una forma di turismo sostenibile, molto responsabile che però in qualche modo crea piccolo movimento economico. È partito in questi giorni il progetto dell'ufficio scolastico provinciale per combattere la ludopatia anche nelle scuole, previsti incontri nelle classi e insomma una serie di lezioni per studenti e per professori. Vediamo. Un'azione di sistema sul territorio che coinvolge gli istituti superiori è la TS, l'Agenzia di tutela della salute di Pavia. Si chiama Cambia Gioco, punta su di te, il progetto ideato dall'ufficio scolastico provinciale per prevenire e combattere la ludopatia tra gli studenti. Si comincia dalle scuole, si comincia grazie a un finanziamento che proviene dalla Regione e che arriva dalla Regione Lombardia tramite l'azienda territoriale sanitaria che sta collaborando con le scuole per questo progetto. Il progetto, pensato per gli studenti tra gli 11 e i 18 anni, prevede una serie di iniziative per sensibilizzare i ragazzi, ma anche attività di formazione dei docenti, incontri con i genitori, laboratori e teatro sociale. Per le scuole della provincia, l'Istituto Capofila sarà liceo Cairoli di Vigevano. Faremo delle attività, da un lato che sensibilizzeranno verso la problematica del gaming, del gioco online, che è una problematica molto rilevante verso i ragazzi. Ci saranno anche degli sportelli di supporto psicologico. Poi si utilizzerà anche la tecnica che funziona molto bene nelle scuole del peer-to-peer, cioè informeremo prima i grandi che poi anche utilizzando le forme dell'alternanza scuola-lavoro faranno da tutor verso i più piccoli delle medie. È un modo questo che aiuta il messaggio a passare davvero molto bene dai più grandi ai più piccoli. Poi faremo anche delle attività legate al teatro sociale, attività ludiche verso i più piccoli, ma ludiche nel senso di sensibilizzare sempre verso questa tipologia di problematiche. Quindi, come potete vedere, sono davvero ad ampio spetro le iniziative che abbiamo pensato. Ovviamente ci saranno anche degli incontri rivolti alle famiglie. Partiranno a breve anche i primi due corsi post-diploma su enogastronomia e turismo in alto oltre Po. L'obiettivo è formare giovani fino ai 29 anni che poi possano lavorare sul territorio. Armando Bidone. Una popolazione residente sempre più anziana, poche opportunità di lavoro e un sistema di servizi al turismo che ancora arranca per combattere questi problemi. La strategia nazionale, aree interne per lo sviluppo dell'Alto Oltrepo a Pavese, avviata ormai da alcuni mesi, si prepara a mettere in campo anche una serie di percorsi formativi. Nei giorni scorsi, presso la sede di Varsi della comunità montana, sono infatti stati presentati i primi due corsi di istruzione e formazione tecnica superiore nei settori dell'enogastronomia e del turismo. I corsi post-diploma della durata di mille ore sono gratuiti in quanto finanziati dal Fondo Sociale Europeo e da Regione Lombardia e sono rivolti a giovani fino a 29 anni di età che abbiano voglia di scommettere su un lavoro legato strettamente al territorio. Abbiamo fatto la conferenza stampa di presentazione dei due corsi che partiranno ad ottobre, andiamo a proseguire il successo dell'ultimo corso che ha avuto 20 diplomati di cui molti di questi hanno trovato subito un impiego nella specializzazione per cui hanno studiato, un'opportunità che noi non vogliamo farci scappare soprattutto perché dobbiamo combattere lo spopolamento e dare a questi ragazzi l'opportunità di formarsi professionalmente per stare su questo territorio. I percorsi proposti riguardano essenzialmente turismo ed enogastronomia. Nel primo caso oggetto di studio sono le tecniche di promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione particolare alle risorse e alle opportunità offerte dal territorio. Nel secondo, e cioè per quel che riguarda il cibo, gli studenti saranno chiamati alla sfida di progettare e realizzare processi artigianali e di trasformazione dei prodotti legati ovviamente alla tradizione del territorio. Per accedere ai corsi che si terranno a Varsi è sufficiente essere in possesso di un diploma di scuola secondaria o tecnico professionale. Rimarte domenica prossima al tour ufficiale Lomellina Piccola Loira dell'Ecomuseo del Paesaggio Lomellino con un itinerario in parte inedito. Sentiamo. Le visite guidate ai monumenti della Lomellina organizzate dall'Ecomuseo non si sono mai fermate per tutta l'estate con grande successo ma sarà soltanto dalla prossima domenica che riprenderà il tour ufficiale Lomellina Piccola Loira con un itinerario in parte inedito. Il prossimo tour, diciamo, Lomellina e la Piccola Loira sarà al 13 di ottobre dove si parte da Robbio, vediamo le due chiese romaniche dopodiché si andrà al mattino a Cozzo, al castello di Cozzo, castello Gallarate Scotti poi pranzo a base di prodotti tipici, si va allo spaccio ad acquistare sempre prodotti tipici e poi ci trasferiamo verso le 15.30-16 a Gambolò a visitare Castello e il museo archeologico che è una cosa molto interessante ed è la prima volta che portiamo visitatori a vedere questa peculiarità Lomellina. Con la ripresa delle lezioni è ripartito anche il progetto Io sono Lomellino che fa conoscere gli studenti degli istituti comprensivi le bellezze del territorio. Quest'anno dovremo avere anche l'istituto di Mortara che sta verificando la possibilità di far visitare ai suoi alunni di primaria e secondaria i nostri siti Lomellini e da ieri anche Robbio sta verificando la possibilità di partecipare a questa iniziativa. Continuano inoltre le iniziative di marketing dopo la maglietta Io sono Lomellino arrivata in diversi punti vendita del territorio anche la filpa un modo per veicolare il messaggio anche nella stagione invernale. Siamo una squadra della Lomellina, è quello che vogliamo è ora che facciamo squadra, è ora che non ci vergogniamo di essere Lomellini è ora che acquistiamo la felpa piuttosto che la t-shirt e la portiamo con grande orgoglio. E domenica a Pavia invece si terrà la giornata di sensibilizzazione sul tumore al seno organizzata da IAC e Universitiamo, l'appuntamento è nell'Aula del 400 in Università. Una giornata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione del tumore al seno si terrà domenica a partire dalle 16 in Aula del 400, un evento organizzato da IAC e Universitiamo con un duplice scopo, da un lato informare la cittadinanza e dall'altro far sentire la propria vicinanza a tutte le donne che stanno combattendo la loro battaglia personale. In tutta Italia 150 associazioni ci siamo mosse affinché questo tipo di tumore di cui non si parla proprio, è inutile dire, non se ne parla abbastanza deve essere portato alla consapevolezza di tutti. Quindi noi domenica vi aspettiamo in Aula del 400, dalle 16 in poi ci sarà una sfilata di moda parteciperanno donne operate al seno per sensibilizzare, per far capire che oltre alla malattia rimane comunque la donna e la femminilità. Parliamo di un evento che comunque non è solo pavese ma è nazionale, addirittura internazionale perché proprio il 13 c'è appunto questa giornata sulla prevenzione. Prevenzione che, lo dice la parola stessa, serve proprio per evitare il formarsi della malattia o comunque prevenire e quindi può rinessere quegli strumenti che la medicina e la scienza ci mettono a disposizione proprio per evitare il momento peggiore della malattia. Noi come Comune, come Giunta e Amministrazione abbiamo ritenuto di dover patrocinare e supportare tutti gli eventi di questa giornata. In particolar modo trovo la mia sensibilità alla sfilata da parte di donne operate al seno anche perché rappresento un momento di riconquista della femminilità. Cercheremo di sensibilizzare anche i commercianti e di coinvolgerli all'interno di questa marcia che si terrà domenica, che partirà dalle 17.45 e che si snoderà per il centro. Invieremo una comunicazione ai commercianti delle vie che rimangono incluse nella marcia, nelle vie coinvolte, chiedendogli di esporre il materiale che gli verrà consegnato e siccome il colore viola è il colore di questo evento, di questa manifestazione con il quale verrà anche illuminata la Minerva, chiederemo, ed è anche un colore di moda quest'anno, chiederemo la possibilità di mettere qualcosa di viola nelle loro vetrine. È tutto per questa edizione, io vi ricordo che in prima serata questa sera ci sarà itinerari, si va nel comune di Colli Verdi, in seconda serata invece torna a storie con Maria Rosa Aurelio. Grazie come sempre per averci seguito, una buona serata a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.